Ci stanno 22 gradi, zii, 22 gradi primavera, era più caldo ieri a Foligno, ce ne erano 98 e, capito, ci stavano anche i pazzoi, però no, c'è una moneta. Sì, i ristoranti per esempio fanno il 10 agosto, le 12.30, le 14.30, le 12.30, le 12.30, un'ora e quaranta, un'ora e quaranta, un'ora e quaranta, sì, un'ora e quaranta, preciso, tanto guarda, da qui a stasera alle 9, ne volessi, ma anche quello che Roberto mi ha detto a casa, meglio, io non ho comprato niente, non ho deciso niente, mi ha utilizzato quello che mi ha detto e non ho comprato, capito, eh, eh, oh, va beh, là, ciao, sì, ciao, 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 eh, si, proprio ve l'hai fatto vedere, no, proprio, ve l'hai fatto vedere, no, proprio, ve l'hai fatto vedere, blu, blu, come si è blu, blu, blu chiaro, blu chiaro, no, sono bello, sono bello, sì, 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 ciao, ciao, saluta la zia.